Ciao a tutti ragazzi di TecnoAndroid e benvenuti alla nostra recensione dell'Alcatel OneTouch FireE, fondamentalmente il secondo dispositivo con sistema operativo Firefox OS. Vediamo quindi rapidamente il dispositivo da un punto di vista estetico. Come detto questo è uno smartphone che non presenta quindi sistema operativo Android. Nello specifico abbiamo un dispositivo con un display da 4.5 pollici quindi dimensioni effettivamente molto ridotte. 129 mm x 63,5 x 8.2 millimetri di spessore ed un peso complessivo di circa 103 grammi. Il dispositivo sulla parte anteriore presenta alto parlante per le chiamate, fotocamera anteriore con piccoli sensori, tasto home centrale retroilluminato come vedete, poi abbiamo tasti fisici sui lati, qui troviamo accensione di spegnimento e volume, oltre che jack da 3.5 mm sulla parte superiore, inferiore micro USB con microfono per le chiamate. Sull'altro lato invece slot di inserimento della nostra micro SIM. Il dispositivo è uno smartphone single SIM quindi presenta la possibilità di integrare solo ed esclusivamente una SIM, in particolare una micro SIM quindi quelle un po' più piccole. Oltre a questo da un punto di vista estetico, posteriormente presenta una cover in plastica, plastica non lucida quindi non si vedranno troppo le ditate, leggermente opaca ma molto carina al tatto, vedete che è leggermente argentata. Fotocamera posteriore, flash LED e microfono per l'attenuazione del rumore. Scritta Alcatel al centro, Firefox OS e altoparlante per la riproduzione musicale. Il dispositivo quindi può essere utilizzato tranquillamente con una sola mano senza particolari problemi o difficoltà di sorta, vedete che si può tenere in una mano ed è veramente leggero e portabile, questo perché principalmente per un display che ha una diagonale molto ma molto ridotta rispetto a quanto siamo abituati a vedere con altri smartphone. Vediamo quindi ora le caratteristiche tecniche, allora come detto abbiamo un display da 4.5 pollici che è 960x540 pixel, IPS e 16 milioni di colori, quindi abbiamo tra le mani un dispositivo che presenta un display non proprio entusiasmante in quanto essenzialmente non è nemmeno un HD, ricordiamoci che gli HD hanno risoluzione di almeno 1280x720 pixel, ho detto almeno perché se hanno più risoluzione si va nel range dei full HD che hanno invece 1080x1920. Il dispositivo tuttavia presenta un touchscreen che è abbastanza soddisfacente, vedete che comunque ha una buona reazione al tocco, quindi il touch funziona bene, anche ad esempio aprendo la galleria vedete che le immagini vengono visualizzate nell'interesse dello schermo e si può fare lo zoom senza particolari problemi o ritardi. Quindi devo dire che da un punto di vista del display è buono, sicuramente non è un HD, quindi i dettagli e i colori non saranno proprio ben definiti, però nel complesso è abbastanza soddisfacente. Il processore è invece purtroppo un solo dual core, quindi un processore che poi non è così troppo performante, tale per cui quindi non si può immaginare di utilizzare troppo questo dispositivo per giocare o comunque con titoli che richiedono una grande potenza elaborativa. Abbiamo un processore dual core non ben specificato con una frequenza di clock da 1.2 GHz. Quindi immaginatevi di poter utilizzare questo dispositivo per giocare con titoli molto ma molto semplici e basilari, come per esempio può essere un cut de rope, che è un titolo famosissimo in cui bisogna, vedete, si hanno una serie di livelli molto semplici in cui bisogna tagliare corde o quant'altro per far arrivare al nostro amichetto la caramella. Quindi vedete che purtroppo il display è molto ma molto ridotto, abbiamo 4.5 pollici, quindi molto poco, però per il resto buona qualità, il touchscreen vedete che risponde in maniera perfetta senza particolari problemi. Le uniche difficoltà proprio sta nel display molto piccolo che quindi se sono richieste più dita non si sa tra virgolette quasi dove metterlo, però per il resto vedete che per un utilizzo normale possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Nel frattempo vi faccio sentire anche qual è la funzionalità dell'altoparlante posteriore. Sentite che mettendo volume al massimo il suono non è perfetto. Si ha una leggera distorsione del suono, soprattutto anche in questo caso in cui non si richiede una grande comunque potenza o un grande dettaglio, comunque si ha una distorsione tale per cui comunque il dispositivo non presenta un altoparlante bellissimo. Ricordiamoci che è stato integrato in questa parte e mettendo anche solo questo rumore al suono al massimo il dispositivo vibra soprattutto in questa parte. Quindi devo dire che è tutt'altro che è soddisfacente soprattutto sulla qualità del suono. Sentite. Siamo quindi riusciti a parlare per adesso del processore che purtroppo devo dire non siamo riusciti a testare su altri software, questo perché non è installato il Play Store quindi non possiamo installare tutti i titoli presenti sullo stesso. E abbiamo parlato del display. Tralasciando in parte il sistema operativo che vedremo nel dettaglio dopo parliamo e apriamo una parentesi sulla fotocamera. Fotocamera che nel nostro Alcatel One Touch Fire E è posteriore purtroppo devo dire da 5 megapixel. Allora innanzitutto ruotando vedete l'inquadratura non si ha un trascinamento. Però naturalmente se io dovessi fare un'istantanea di una determinata diciamo situazione in cui non si hanno situazioni di grande luminosità vedete che il risultato sarà discreto anche se poi nel complesso l'immagine non è eccellente. Questo perché comunque 5 megapixel sono effettivamente molto pochi. Va detto che sebbene i megapixel non siano tutto però sono molto importanti per riuscire a scattare ottime istantanee. Del resto comunque se vediamo in condizioni di grande luminosità come può essere all'aria aperta il funzionamento del comparto fotografico è risultato essere abbastanza soddisfacente o comunque linea con gli altri dispositivi che presentano una fotocamera con gli stessi diciamo megapixel. Naturalmente viceversa in condizioni di scarsa luminosità forse non siamo riusciti ad eseguire ottime istantanee però per un utente che acquista uno smartphone di questo tipo sicuramente può andare più che bene dato che comunque di sicuro non si aspetta un dispositivo realizzato per scattare ottime istantanee. Continuando parlando della fotocamera abbiamo detto posteriore da 5 megapixel con autofocus flash led singolo e registrazione video a 720p quindi HD e fotocamera anteriore da purtroppo nemmeno un megapixel quindi la cosiddetta fotocamera VGA quindi molto ma molto è scadente. Viste le caratteristiche tecniche generali quindi display buono processore decisamente scadente ha dei ralentamenti anche nel caricare le immagini e fotocamera nella media dei 5 megapixel. Parliamo di quello che è la parte fondamentale di questo Alcatel il quale è il sistema operativo. Sistema operativo che nello specifico è un Firefox OS quindi un sistema operativo praticamente mai visto aggiornato alla versione 1.3. Essenzialmente non è proprio l'ultimissima disponibile diciamo sul mercato però devo dire che è tra le più aggiornate. Allora cosa cambia? Cambia praticamente tutto. Cambia dalla lock screen, vedete che per sbloccare bisogna trascinare il dito, cambia il centro notifiche, centro notifiche che qui presenta il menu di avviamento rapido e qui tutte le notifiche. Cambia il dialer, il dialer con il centro del registro delle chiamate, cambia la rubrica. Cambiano il centro messaggi con tastiera e proprio come scrivere i messaggi. Cambia naturalmente il sistema operativo, il sistema operativo penso che non c'erano dubbi in merito è Firefox, Firefox OS quindi Firefox anche il sistema operativo e vedete senza particolari problemi o difficoltà nella navigazione. Oltre a questo cosa abbiamo? Abbiamo di differenze anche ad esempio nel menu menu impostazioni che presenta tutte le caratteristiche impostazioni base quindi Wi-Fi, Bluetooth e quindi tutta la connettività. Connettività che apriamo una parentesi è Wi-Fi, Bluetooth, SIM, connessione date fino al massimo in 3G quindi niente 4G o LTE e a GPS quindi niente NFC quindi connettività base che non abbiamo riscontrato particolari problemi nell'utilizzo. Poi parlando sempre dell'impostazione vediamo schermo, notifiche, data ora, lingua tastiere, l'antitracciamento che è quella funzione che ci permette di in pratica comunicare all'applicazione la nostra intenzione di non essere rintracciati quindi di non attivare GPS o GeoTagging. Poi oltre a questo abbiamo memoria USB attiva che ci permette quindi di utilizzare memorie esterne, una memoria interna che è essenzialmente da 4GB espandibile tramite microSD fino a 32GB ma che è suddivisa in memoria applicazioni da 1GB come vedete. Memoria multimediale da 1.7GB quindi essenzialmente 1 più 1.7 abbiamo circa 2.7GB a disposizione da dividere tra 1GB di applicazioni che non possiamo sforare e 1.7GB di multimedialità quindi musica, foto e video. Quindi fate attenzione, 1GB solo per installare applicazioni e i relativi dati e 1.7 per tutta la multimedialità quindi foto e quant'altro. Poi abbiamo una batteria, batteria interna non rimovibile che permette un utilizzo di circa un giorno e mezzo barra 2. Quindi sempre il nostro utilizzo standard, connessione dati sempre attiva, chiamate di circa un'ora, messaggistica istantanea intensa e navigazione abbastanza intensa, siamo riusciti a durare per un giorno e mezzo barra 2 quindi dalla mattina al pomeriggio barra sera del giorno successivo. Naturalmente nel momento in cui si è iniziato a giocare un po' di più la durata è scesa. Per il resto vedete menu impostazioni senza nient'altra personalizzazione. Parlando invece di applicazioni preinstallate o di applicazioni installabili va detto che Firefox OS è sicuramente un sistema operativo molto nuovo tale per cui fate conti che non avrete moltissime applicazioni da poter installare. Va detto che le applicazioni possono essere installate dal marketplace Mozilla che è raggiungibile direttamente dal menu con quest'icona e vedete che qui si può accedere a tutte le varie applicazioni che si possono installare sul nostro terminale. E' importante ricordare che moltissime applicazioni conosciute su Android e su iOS non sono disponibili su Firefox OS. Vi faccio un esempio. Whatsapp che credo sia la più conosciuta al mondo non può essere, non è presente sul marketplace. Quindi l'unica soluzione per noi per utilizzare è stata installare Connect A2 che è un client che ci permette di accedere a Whatsapp ma per il resto di default non è installabile. Quindi si ha troppe mancanze da un punto di vista software che ci portano a penalizzazioni veramente notevoli sia sull'utilizzo che sull'esperienza utente vera e propria. Di default infatti non troviamo pressoché nulla se non alcune applicazioni. Vedete in social abbiamo telefono, messaggi, contatti ed email. In giochi troviamo alcuni social network e alcune link a spazio games, flash games, gioco.it, altri che calcio, i giochi della Feltrinelli. Quindi vedete che di applicazioni preinstallate essenzialmente non ne abbiamo. In musica abbiamo la radio e due app per accedere alla musica e in showbiz sono quelle applicazioni che ci permettono di acquistare biglietti, vedere MTV, vedere i film in uscita, Yahoo film e così via. Quindi applicazioni diciamo multimediali. Poi presso che nulla abbiamo la galleria per accedere alla nostra galleria e il file manager per accedere a tutti i nostri file preinstallati su questo o presenti su questo dispositivo. Quindi va detto che anche da un punto di vista software è molto immaturo tale per cui ci porta a non promuoverlo e a non consigliarlo fondamentalmente all'acquisto. Questo perché comunque al giorno d'oggi nonostante noi potremmo e vorremmo sempre consigliare a tutti Android, va detto che è un sistema operativo veramente immaturo tale per cui consiglierei di aspettare ancora qualche mese o anno prima di poterlo acquistare. In quanto abituati ad Android, questo è tutta un'altra storia. Non si può giocare, non si può utilizzare troppe applicazioni. Quindi sostanzialmente per cosa? Comprare uno smartphone, spendere più di 100€ casomai per non poter fare quasi niente. Per questo motivo lo boccerei. Va detto che comunque presenta tra tutte le caratteristiche tecniche elencate anche sensore di prossimità, sensore di luminosità e G-sensor e i compass, quindi il sensore per la pussola. Per il resto penso di avervi raccontato pressoché tutto e posso dire che personalmente non consiglierei l'acquisto di questo terminale. Non tanto per caratteristiche tecniche ma proprio per un sistema operativo che è ancora troppo immaturo. Lug, ritardi, difficoltà nell'utilizzo e comunque applicazioni utiliti pressoché inesistenti. Per il resto, parlando invece di caratteristiche tecniche, è buono il fatto di essere molto piccolo, anche se il display è effettivamente troppo piccolo rispetto a quanto siamo abituati fino ad oggi. Processore imbarazzante, dual core che non riesce quasi a caricare la propria galleria o le proprie immagini, nel senso che ha difficoltà quasi a caricarle. Buona la scelta della batteria, buona durata quasi due giorni e difficoltà comunque in una memoria interna troppo poco capiente. 4 GB sono veramente pochi. Per il resto non mi resta che rimandarvi alla nostra recensione testuale su tecnoandroid.it per vedere gli scatti effettuati nel nostro test o per dubbi o altre idee vi invito a lasciare un commento all'articolo o al video in modo che possiamo cercare di rispondervi il prima possibile. Un ultimo appunto, prima che me lo domandiate come domanda, vi rendo noto che è presente il led di notifica posto qui nella parte alta del terminale, anche se è difficile che venga utilizzato dalle applicazioni, lo noterete soprattutto quando ricaricate lo smartphone. E poi sono assenti i due tasti a fianco del tasto home centrale, come abbiamo visto infatti non sono presenti altri tasti qui che si retroilluminano, quindi fate i conti che avrete solo ed esclusivamente questo tasto home centrale senza la possibilità di utilizzare il tasto per tornare indietro o per aprire il menu impostazioni, cosa che per un utente android potrebbe portare a alcune difficoltà o comunque un leggero smarrimento iniziale. Per tutto il resto un commento e cercheremo di rispondervi.